buona settimana da prealpina.it che ci fossero problemi era nell'area da giorni ieri la conferma da questa mattina in lombardia non si utilizzeranno per le prime dosi vaccinali le fiale di astrazeneca preferibilmente si farà ricorso a fighter o moderna astrazeneca verrà usato soltanto per i richiami il timore di mancate forniture in tempi certi ha spinto a puntare su altre opportunità evitando di somministrare questo vaccino a chi arriva per la prima volta in un hub. fighter e moderna verranno usati anche per i lombardi dai 60 e 79 anni senza particolari patologie a quanto pare dunque il vaccino per il quale si avevano maggiori timori nelle forniture diventa quello più facile da ottenere visto che le consegne arrivano a cadenza regolare ogni settimana. la novità modifica i piani finora seguiti per i vaccinati con fighter è previsto un richiamo dopo tre settimane per astrazeneca si slitta anche a 10 12 settimane. Da oggi in lombardia siamo in zona gialla il traffico si fa maggiormente intenso e si vede anche più gente sui mezzi pubblici anche per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori. A milano il sistema sembra reggere con tram bus e metropolitane con tante persone a bordo ma senza particolari criticità. Un annuncio in metro invita chi può viaggiare dopo le 9.30 a lasciare prima campo libero agli studenti ed evitare dunque assembramenti. Sui treni pare che non si registrino incrementi notevoli di passeggeri e pare tutto come la scorsa settimana. Dopo la lunga chiusura riaprono i ristoranti e le pizzerie come i bar che offrono anche ristorazione. Nei locali del centro di Varese ci registrano abbondanti prenotazioni sia per il pranzo che per la cena. Si deve purtroppo rinunciare alle sale interne e optare per i tavoli all'aperto. In questo il meteo non aiuta, le previsioni danno pioggia in arrivo fino a giovedì e dopo mesi di lockdown questo appare a tutti come una terribile sfortuna. La gente ha voglia di uscire e di andare fuori a mangiare, dicono i commercianti. Un anno fa c'era più diffidenza. Stavolta potrebbe essere diverso, lo speriamo. Le prenotazioni già arrivano. Il rammarico è per l'orario di chiusura. Il coprifuoco alle 22 è considerato da tutti penalizzante e fa un po' rabbia non poter aprire anche all'interno. Veniamo alla cronaca a Gorla Minore. Nel cuore della notte hanno chiamato i carabinieri chiedendo aiuto perché la madre li stava maltrattando. Saranno però la procura dei minori di Milano e la procura di Busto Arsizio ad accertare se i due adolescenti, fratello e sorella, siano stati vittime di violenza in famiglia. I due ragazzi sono stati portati in una casa famiglia nella notte fra venerdì e sabato. Avrebbero denunciato le botte prese dalla madre e maltrattamenti che al momento sono oggetto di indagine dei carabinieri della compagnia di Saronno. Si tratta di due giovani di origine nordafricana. Al loro appello hanno risposto i carabinieri della stazione di Gorla Minore insieme con i servizi sociali. Sembra che i due non avessero segni di denti, di botte o di percosse, ma hanno riferito di avere subito pesanti minacce e temendo il peggio hanno chiesto aiuto. Le indagini dovranno ora ricostruire che cosa sia effettivamente accaduto. Passiamo a Saronno. Tre giovanissimi nei guai, due trasferiti alla beccaria di Milano e uno in un centro di accoglienza. Hanno fra i 15 e i 16 anni e sono residenti a Rovello Porlo e Roverlasca. Secondo i carabinieri da dicembre si sarebbero resi responsabili di diversi episodi violenti. A loro carico ci sono danneggiamenti all'interno di scari ferroviari locali, ma anche furti e rapine. Scenario delle loro scorribande la stazione di Rovello Porlo e anche i convogli sulla linea Milano-Saronno-Como. Raccolti riscontri sufficienti, i militari hanno chiesto e ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare per tutti e tre. Gli scari ferroviari continuano a essere prediletti dalla microcriminalità. L'altro giorno i carabinieri della compagnia saronnese hanno bloccato alla stazione di Saronno-Centro due giovani di Milano per una rapina da pochi euro ai danni di due ragazzini che stavano andando a prendere il treno. Chiudiamo con il basket. Open Job Betis, pur sconfitta, ha garantito la salvezza ed è già tempo di pensare al futuro. Vediamo il servizio di Massimo Rovati con le immagini di Angelo Puricelli dell'Agenzia Blitz. L'Open Job Betis fallisce la prova finale di fronte ai mille tifosi virtuali delle Nexeni Arena. Si arrende a Trieste, ma ringrazia la fortitudo Bologna che battendo Cantù le garantisce la salvezza con 40 minuti di anticipo. Partita difficile in cui i ragazzi di Bulleri hanno giocato a strappi, senza riuscire a mettere in campo una pressione difensiva costante e tirando con percentuali bassissime dall'arco. Seratanò per Luis Cola, letteralmente dimenticato dai compagni, in una gara negativa sul piano della fluidità offensiva. A tenere in piedi la squadra sono state prima le iniziative di Bean e poi nel terzo quarto quelle di Douglas. Ma la squadra si è via via spenta, nonostante la nuova, sontuosa prestazione di John Egbunu, 14 punti e 13 rimbalzi. Ora, in attesa dell'epilogo della regular season, con la trasferta sul campo di una brindesi tuttora ferma per il Maxi Poccolario di Covid e con una possibilità infinitesimale ancora aperta di conquistare un posto nei play-off, è già tempo di pensare alla prossima stagione, che molto probabilmente vedrà Varese ripartire da Massimo Bulleri e con un parco italiano in gran parte confermato, anche se le quotazioni di Evico nell'ultimo mese sono parsi in ribasso. Da sciogliere, al più presto, il nodo dei rinnovi, in primis quello del ritorno di scuola. La società ha già un'opzione per il rinnovo di Bean, spesso ormaletale in uscita dalla panchina, ma il nodo del budget, al termine di una stagione da incassi quasi zero causa Covid, resta primario e sembra mettere le basi per un nuovo campionato con la salvezza come obbettevo primario. E questa era l'ultima notizia, il nostro notiziario termina qui. Vi diamo appuntamento all'edizione delle 19. Buona giornata.